Insieme a un MSP vogliamo analizzare alcuni scenari reali in cui dato RMM ha fatto davvero la differenza, in termini di tempo risparmiato e di soldi risparmiati, sia per lui sia per il cliente finale. Ne parliamo insieme a Daniel Florian di Amici del PC, all'interno dello speech con un RMM puoi fare tutto, ma tutto cosa?